Montedison, Ilva, Fas, Abruzzo, Puglia, Veneto, tre siti, tre regioni per altrettanti insediamenti industriali, luoghi nei quali la speranza, lavoro, opportunità, sviluppo, si è mutata negli anni in delusione, chiusure e inquinamento del territorio. Situazioni diverse ma analoghe, accomunate dai ritardi nell'accertamento delle responsabilità e della bonifica. In questi giorni Pescara ospita le attiviste di due tra i più importanti movimenti italiani che si occupano di siti inquinati. Lottano, insieme al forum H2O Abruzzo, le Mamme Nobfas del Veneto e Daniela Spera del coordinamento Notriv che ha denunciato il caso Ilva alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che poi ha condannato l'Italia. Il 23 marzo si scenderà in piazza a Roma per il clima e per il risanamento del territorio, ma intanto... La situazione dei bus si sta continuando a darci brutte sorprese perché proprio ieri è arrivata dal Ministero dell'Ambiente l'ennesimo rinvio per l'approvazione di un documento importante, l'analisi di rischio per il sito di piano torta. In realtà è l'ennesimo ritardo che scontiamo ormai da 12 anni per un sito che dovrebbe oggi, secondo le leggi, essere già bonificato. Bene, invece, sulle discariche 2A e 2B il Ministero aveva detto che avrebbe firmato a giorni l'appalto e non sappiamo nulla. La provincia doveva individuare il responsabile della contaminazione dell'area industriale, il sito più vasto, eppure quello non c'è. Insomma, è inaccettabile tutto questo. Dobbiamo assolutamente rilanciare e chiediamo alla Giunta Marsiglio, appena insediata, di aprire un'avvertenza vera e propria con il Ministero dell'Ambiente per sbloccare i fondi e andare avanti le carte velocemente per approvare i progetti e realizzarli. Voglio ricordare che la bonifica porta molto lavoro. Noi siamo qui in Abruzzo perché vogliamo fare rete con le mamme di tutta Italia, perché quello che sta succedendo a noi, da quello che stiamo comprendendo, è un problema nazionale. L'inquinamento sta andando avanti a dismisura. Da noi è stata contaminata la seconda falda più grande d'Europa. Dobbiamo, nella maniera più assoluta, pensare che noi, per i nostri figli, siamo i primi responsabili. Non possiamo delegare le istituzioni, i politici, a fare quello che noi come mamme dobbiamo fare. Per cui le mamme di tutta Italia si devono unire e combattere insieme per questa cosa, perché è la nostra priorità, la nostra ragione di vita, i nostri figli.